Abbiamo ucciso il vostro bombare al tomolo, i prossimi siete voi. Se un solo mio assessore all'agricoltura o di qualunque altro ambito ha commesso una sola irregolarità, io ne pretenderò le immediate dimissioni. E lui ne sono certa. È un omicidio di natura mafiosa e politica. La storia della mafia che aiuta i più deboli è una falsità, è una mortificazione. Se mi dovesse accadere qualcosa, lei dovrà dire che è certamente avvenuto in relazione a quanto io ho riferito al ministro. Ma lui doveva fare comunella con quelle di Roma. Ma quelle di Roma e la Sicilia non sanno manco com'è fatta. Cercimino, ma che cosa vuoi? La sua nomina è la prova della vostra responsabilità morale! E forse non solo quella della morte di Fiersanti Battaretto! È una DVO! E questa è la prima morte di Fiersanti Battaretto! Grazie a tutti.